Viii! Ma buongiorno! Non sai dove vai oggi? Eh? Dove ti portano mamma e papà? In piscina! In piscina! Sei contenta? Eh mamma? Sei contenta? Andiamo a fare i tuffi? Andiamo a fare i tuffi? Andiamo a fare i tuffi, dai! Non ti va? Ti va o no? Sei a pezzi? Eh? Sai come papà a pezzi? Non è giusto! Non è giusta questa cosa della sveglia! Ehi! 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 Prosto? Abbiamo finito? Eccoci arrivati con questo caldo incredibile! E sono le 10 di mattina! Sto morendo! Vediamo come si svilupperà la giornata! A dopo! Che bella vita! Che bella vita! E' vero? E' vero? E' vero baby! Eh buzzolino! E' buona l'acqua! E' buona l'acqua! E' buona l'acqua! D' giù! Diピ university, D' giù 성sici? E' vero baggi! sta bene? tutto bene? vuoi prender l'acqua? che pappi? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buonanotte Ciao mami Si è svegliato Che bella vita Bella bella vita Guarda che c'è qui Il pinguino 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 Questi piedoni Parse del calcone Pinguino Parse Parse Herr Eccola papi! Ebbene c'è una buzzona! C'è una buzzolina! C'è una buzzolina! Guarda che c'è qui! Ah, mangia tutto, mangia tutto! Tutto buono! Se è andato il pinguino! Ah, il pinguino! C'è un'altra zufa! Il bagnetto! Il bagnetto! Eccola mammy! Eccola mammy! Eccola mammy! Eccola mammy! Eccola mammy! ci piace ci piace ci piace il magneto il pinguino pesciolino buono 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 è buono mi piace mi piace ci piace la zampa la zampetta io ho mangiato io ho mangiato la zampetta il il no il no marzo qui po ecco la ecco ecco la Siamo un merluzzo Siamo un po' di rinforzare Allora vai a quello che fa ballare, vai a quello che fa ballare Vai! 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 Bravo! Bravo, bravo! Vai! Vai! Allora tu! È brava! È brava! Che belle! Ce ne stiamo andando da questa meravigliosa piscina. Ecco le due squalette. Come siamo state con lì? Bene. Soprattutto i pomeriggio. Soprattutto i pomeriggio, direi un bel venticello. Buomeriggio, top. Comeriggio, meglio della mattina sicuramente. Bellissimo. Anche perché c'è meno gente. Sì, sì. Questa Camilla che faccio. Quindi i risultati? Camilla? E bensì. Sconvolta. 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 Con questo bacio noi vi salvediamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie per la visione